Ma sai, ma per quanto mi riguarda potremmo stare dentro un buco in periferia. Non vogliamo ristruzzata dai debiti. Se vi separate che ne sarà di me Andrea? I genitori sono troppo impegnati a litigare per accorgersi delle potenzialità del bambino. Hai sentito che ha detto il maestro? Sì. Che sei un genietto. Se non pago, vi pignorano la casa. Io te lo giuro, se la banca si prende la casa stavolta i figli me li porto con me e tu non li vedi più sti ragazzi. Silviano, chi ama? Silviano, chi ama?